Ciao a tutti! Noi siamo il gruppo Nalobam ed è arrivato il momento di presentare il nostro team. Partiamo per primo dal team leader, Mattia. E per il secondo membro del gruppo, io, Francesco, programmatore di Arduino. Come terzo, il nostro programmatore di Now, il mitico Michele. E come quarto membro del nostro gruppo, abbiamo la nostra social media designer e manager, Arianna. E come quinto membro del nostro gruppo, abbiamo un altro programmatore di Arduino, o programmatrice meglio, Elena. E come sesto membro del nostro gruppo, abbiamo la nostra videomaker e programmatrice di Now, Beatrice. Ora, il settimo membro del gruppo, Edoardo, che ha programmato Now e ha gestito la pagina social di Instagram. Siamo arrivati all'ottavo membro del nostro gruppo, Pietro, che ha sviluppato e è il responsabile del nostro sito web. E adesso l'ultimo membro, ma non per importanza, del nostro team, colui che dà supporto al team, Lorenzo. All'interno del nostro team abbiamo avuto innumerevoli difficoltà, soprattutto anche causate dalla didattica a distanza e dal fatto che abbiamo dovuto lavorare a distanza. Infatti, ogni membro del team è riuscito a trovare un suo spazio, anche perché ha avuto un ruolo a distanza, sono stati in grado di definire i ruoli di ognuno all'interno del team. Ovviamente, agitandoci a vicenda per raggiungere lo scopo.